Hi Protein, Bodybuilding, ciao amici GoSL TV GoSL TV, oggi vi stiamo parlando delle proteine e non di palla, quindi abbiamo un pazzo, diciamo che un calciatore che fa telecamera sta usando, stiamo parlando di proteine, proteine questo è il Gamma Proziz, Proziz da 2 kg creatina, chi allena in palestra, specialmente giovani, anziani, non è un problema, chi fa un allenamento intenso, eccezionale questo prodotto, praticamente tutto il mondo, oggi Sri Lanka, Italia, qualsiasi paese, c'è ragazzi che allenano intensamente, chi allena intensamente i loro muscoli, usano vari prodotti, sapete che ci sono tanti effetti collaterali quando usi questi prodotti, Gamma Proziz è uno dei migliori prodotti che noi troviamo nel mercato, potete acquistare tranquillamente questo da 2 kg a un costo di circa proteina, proteina, ha un prezzo circa tra 60-80 euro da 2 kg, potete fare una ricerca e come vedete sul schermo e creatina, creatina è una cosa importante, chi allena praticamente forza fisica, resistenza, chi fa pesi, uomo e donna, la creatina è importante, questo da 300 g a un costo di circa 28 euro, potete tranquillamente trovare, eccezionale perché meno grassi, meno carboidrati, meno conservanti, senza zuccheri, Gamma Proziz, poi potete trovare gusti, biscotti, cioccolato, fragola, come gusti, anguria, mango, cola, vaniglia, questo Gamma Proziz potete trovare nel mercato, base vostro piacere, perché molte volte anche creatina ha un odore stranissimo, particolare, non può specialmente, voi donne non piace alcune profumazioni, quando aleni dà delle strane sensazioni, non può usare, però creatina, chi fa bodybuilding ormai va molto di moda, donne specialmente, chi vuole dimagrire, chi vuole fare un fisico, bello, sia prima di sposare, dopo sposato, dopo che avete avuto anche bambini, mi chiediamo a vedere i prodotti che abbiamo visto grandi, non è un po' di questo, quindi mi chiediamo a vedere i prodotti high protein, top best protein powder, come se avete avuto i prodotti in Italia, come se usate un dolore per 130 g, come se usate, come se usate un dolore per 120 g per i prodotti, come se usate un dolore per i prodotti, Quindi, per quanto riguarda il prodotto, abbiamo già fatto il prodotto per il prodotto. Questo è il prodotto per il prodotto. Il prodotto è il prodotto. come anticaduta eccezionale prodotto process e ragazzi ci vediamo con un altro video che utile che potete sempre da GoSltv avere delle cose per la vostra vita per la vostra salute serve efficace eccezionale ci vediamo a presto grazie a tutti